La prima edizione del trofeo Termoli da Mare ha chiamato a raccolta non solo tante società provenienti da fuori regione, ma anche tanti curiosi che hanno avuto l'occasione di conoscere una gara di nuoto in acque libere di 3 km organizzata dalla società H2O Sport, valida per il campionato italiano di mezzo fondo. Circa 50 gli atleti che hanno affrontato il mare della costa molisana. 3 km che hanno visto tagliare per primo il traguardo a due atleti di casa. Tra gli assoluti maschili, Michele e Giampietro, nel settore femminile, Lorenza Piano, entrambi tesserati con l'H2O Sport. Tra i master maschili, il primo classificato è stato Renato Possanzini, Acqua Sport Pescara, e tra le donne, Emanuela Lanza, Nuoto Più Academy. Tra i protagonisti è anche la società campione in carica, le Fiamme Oro Napoli. Vediamo. Siamo con Peppe D'Angelo delle Fiamme Oro Napoli, anche oggi voi qui a Termoli. Sì, siamo stati invitati e giustamente è stata una buona scelta venire qua con 5 giovani che stanno partecipando alla manifestazione. Abbiamo visto proprio tutto che va nel miglior dei modi, c'è un bel percorso dove ci auguriamo che la società di Termoli potrebbe fare un evento di 5 km a livello proprio nazionale. Io sono responsabile dell'Efiamme Oro e vi posso magari spiegarvi un poco questo nuoto in acqua e libere, essendo che lo facciamo da più di 30 anni questa attività. Ci sono le attività che sono di promozione che sarebbero in mezzo fondo da 2 km a 4 km. Poi ci sono il fondo che sono 5 km e già si va nell'attività colistica internazionale perché si fanno sia Olimpiadi mondiali che europei. Poi ci sono i 10 km che partecipano all'Olimpiadi. Poi ci sono le gare e le maratone di 25 km dove noi come società possiamo dire che le tre distanze siamo la società più forte pure a livello internazionale. Perché abbiamo Martina Grimaldi, abbiamo la Poncelle, abbiamo Ercoli, abbiamo altri due ragazzi che sono giovani che si stanno avvicinando a livello internazionale. Cosa sono le Fiamme Oro? Le Fiamme Oro sono la Polizia di Stato che hanno per ogni quasi città un centro nazionale. Noi abbiamo scelto una trentina di anni fa di fare questo centro nazionale di nuoto di fondo. Essendo che a Napoli c'è un po' di storia, c'è la famosa Carri Napoli che viene svolta ogni anno. E da questo spunto io mi sono ex pallanutista, voglio precisare. Ho avuto questo spunto di mettermi sul nuoto in acqua libera perché mi ha sempre affascinato questo tipo di attività.